Martedì 19 novembre si è svolto a Venezia Mestre il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. L'evento dal titolo Rigenerazione Urbana era in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Venezia. Tante le aziende protagoniste del convegno che hanno avuto modo di presentare le proprie tecnologie e le proprie esperienze in tema di sostenibilità. Crediamo molto che la rigenerazione urbana passa anche attraverso una sensibilità e una cultura da parte di tutte le persone coinvolte in questa attività, da noi professionisti ai produttori al settore industriale ma soprattutto anche ai committenti. È un momento economico che certamente non favorisce un'accelerazione e una riflessione in modo opaccato su questi temi. È importante un'attività come quella proposta oggi di mettere più portatori di interesse attorno allo stesso tavolo per cercare di vedere se c'è la reale possibilità per sensibilizzare in modo diverso anche gli utilizzatori finali.